In provincia di Bolzano i bimbi di 8-9 anni in sovrappeso sono il 13,4%, i bambini obesi sono il 4%, compresi i bimbi severamente obesi che sono lo 0,6%. Questi i risultati della rilevazione Occhio alla Salute effettuata l'anno scorso in Alto Adige, illustrati dall'assessora provinciale alla Sanità e alle Politiche Sociali Marta Stoccher e da Antonio Fanolla dell'Osservatorio Epidemiologico Provinciale. I dati principali sono innanzitutto che la percentuale di bambini in sovrappeso oppure obesi nella nostra provincia è in assoluto la più bassa d'Italia. Questo però non ci deve far riposare sugli allori perché abbiamo rilevato comunque delle criticità sulle quali è opportuno lavorare per far sì che questa percentuale non aumenti nel futuro. Per farlo un esempio, la media italiana è di circa il 33-34% di bambini in eccesso ponderale, quindi o obesi o sovrappeso. La regione maglia nera di questa classifica, tra virgolette la Campania, dove circa un bambino su due ha un problema di eccesso ponderale. Da noi in provincia di Bolzano la percentuale di eccesso ponderale è del 17% della più bassa in Italia in assoluto. Se si tralasciano i raffronti con la media nazionale, i dati che riguardano l'obesità infantile in Alto Adige non sono tutto rose e fiori, come sottolinea Lucio Lucchin, primario di dietetica e nutrizione clinica all'ospedale di Bolzano. Anche qui i dati vanno letti. Negli ultimi cinque anni, se sommiamo i bambini in sovrappeso e obesi, ci accorgiamo che c'è stato un aumento del 17%. E questo è preoccupante. Un altro trend che sembra identificarsi, anche se con i dati non possiamo essere poi sicuri che effettivamente sia così, sembra che siano in aumento i bambini molto obesi. Questo fatto ci deve un attimino far aumentare la sorveglianza. Dalla ricerca emerge che l'alimentazione a livello provinciale non è migliore di quella registrata in altre regioni italiane. Quello che invece fa la differenza è probabilmente la maggiore attività fisica dei giovani al centro del rilevamento. Infatti solo il 5% dei giovani interpellati non svolge alcuna attività sportiva.